Siamo con Santino, l'eroe di Arcidosso. Dicci com'è andata Santino. Allora, glielo sera andai a piada verso casa, ho sentito il raspa, qualche cosa, non so che, e mi sono fermato un pochino. Poi ho visto, io pensavo fosse un segnalo, un tablo, poi ho sentito delle voci, ho detto chiamare chi mi dà aiuto, io con la napoletina, se non l'avevo giù di sotto, ci ho trovato in acquisto comunitario, in marocchina. Allora ho chiamato un amico, ho fermato, insomma hanno chiamato a soccorso insieme, e a questo punto sappiamo che ti verrà data la medaglia. Ma non so se è d'oro o d'argento. Anche di bronzo andrebbe bene uguale. Eh, no, d'oro mi piace. Vabbè, allora... Io ho trovato lì, poi ho chiamato ai soccorsi, ho trovato un'amica che conosco, l'ho fermato e siamo andati a dargli una mano. Poi ho chiamato ai soccorsi, ambulanza e vicino del fuoco. Bravissimo, ci vorrebbero... Allora io sono nato il 1962 e il 4 di novembre, Tintori Santi. Bravissimo. Ok. Darci il vostro e tutto, il vostro inviato. Tintori Santi, ciao.